Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Asia e io sono Gioia e oggi vi faremo vedere il terzo libro di Nona. Ricordate questo è nei primi due? E questo è il terzo. Credimi non è proprio il caso. Guardate com'è elegante qua. Gira Asia. Non c'è niente da vedere. Sì ci crediamo. Non aprire questo libro sul serio. Mi ricordate com'è finito quello da Gianno? E' finito che lui è rimasto niente. La scena che Giai faceva ridere molto. Un rosso rosso. Vediamo questo. Quello era bianco. Era bianco? Il viso era rosso perché si vergognava. Oh arrabbiato. Una nota che c'è scritto? C'è scritto l'autore del libro. I due precedenti libri erano per mia sorella. Questo invece è dedicato a mio fratello, Bianca e Ken. Vi voglio bene. Il futuro ci riserva grandi cose. Sono fortunata di avervi accanto. Già vabbè girato. Fa finta di niente. Oh sei tornato. Immagino che tu voglia scusarti per ciò che è capitato nel libro precedente. Beh se giri questa pagina significa che ammetti di aver sbagliato e di essere molto molto dispiaciuto. Avanti. Girala. Giriamola. Perfetto grazie. Accetto le tue scuse. Ti propongo una tregua. Stringiamoci la mano e tu prometti di chiudere per sempre questo libro. Dico davvero non voltare mai più le sue pagine. Dagli la mano. Dai. Che è una tregua. Ma noi la giriamo lo stesso. hai rotto il patto. Me lo avevi promesso. Dai. Si disinfettava le mani lui. Ma guarda. Non credo che perdonerò facilmente il tuo tradimento. Comunque su serio. Non voltare la pagina. Chi è questo? Questa. Questa. Ah. Chissà chi è. Perciò era così elegante. Forse vediamo. Scopriamolo. Oddio. D'accordo. Sei abbastanza intelligente da capire dove porterà tutto ciò. Senti. Il fatto è che c'è questo mostro verde chiamato Nessi. Credimi. Non è il caso di incontrarlo. Ecco. Si fa sempre conoscere. Ah. Lì dice. Ah. Non ci vuole far incontrare questo mostro. Ma secondo me fa finta. È la creatura più feroce e spaventosa che tu possa immaginare. Quindi non girare la pagina. Per favore. A me non sembra così spaventosa e feroce. Così carina. Beh. Vediamo. Vediamo bene. Vediamo da vicino. Oh. Sacripante. L'hai fatto ancora. Nessi. Ogni volta si avvicina sempre di più in il pagino che si avvicina sempre di più. Eh sì. Ognuna vediamo sempre un po' più grande. Tu proprio non capisci. Nessi ha denti grandi come tavole da surf e occhi che lanciano fiamme. Non è solo spaventoso. È anche pericoloso. Non voltare la pagina. Ti prego. Va bene. Lo ammetto. Ti ho mentito. Nessi non è feroce. Eh. Guarda. L'avevamo proprio capito. In realtà è il mostro più dolce sulla faccia della terra. E ciò mi rende molto nervoso. Perché è una ragazza. Oh. Ti piace. Guarda il fatto di rosso rosso. No. E ogni volta che giri una pagina lei è più vicina. Quindi per favore ti supplico non voltare la pagina. Ha vergogno. Perché ogni volta che noi giriamo lei si fa sempre più vicina. E infatti. Oh mio Dio. Sta avvenendo da questa parte. Inizio a sentire le farfalle nello stomaco. E mi piace. Mi piace. Dai. Ops. Mi sono versato addosso della salsa. Non vorrai che le incontri conciato così. Non stai pensando sul serio di girare la pagina, vero? Lui poi si è versato la salsa addosso perché crede che noi non gireremo la pagina. E ora giriamo. Ah. L'hai fatto di nuovo. Ok. Niente panico. Cosa posso dirle? Come mi stanno i capelli? Chissà se entro ancora nel mio vecchio abito da sera. E lo si sta facendo pure bello. Oddio. Sta scoppiando. In effetti è un po' strettino. Ma così sono uno schianto. Sarà una fortuna per lei conoscermi. Bene. Ho tutto sotto controllo. Quindi adesso puoi voltare la pagina. È molto più vicina. Che carina. Giriamo. Pop. Ah. Esplosi il vestito. Oh mio Dio. Che ci fa? Ma chi voglio prendere in giro? Sono troppo in ansia. Per favore, ti scongiuro. Devi fermarti. Un attimo. Che cos'è questa puzza? Oh no. Deve essere lei. E tu non vuoi che questo tanfo tremento si avvicini, vero? Allora, dico su serio. Per il bene del tuo naso, non girare la pagina. Ve la sentite la puzza? Io no. Mi hai scoperto, mentito sulla puzza. In realtà, Nessi, profuma come un campo di margherite. La vera verità è che io sono allegico alle cose verdi. Eciù! Hai visto? Ecco i primi sintomi. Se ne vuoi chi mi ammali, sul serio, per favore non voltare la pagina. Mi dice che allegico alle cose verdi. Oh, diamine, l'hai girata ancora. Ci è avvicinata. Tu non capisci. Ho troppa paura di incontrarla. E se non le piaccio? E se mi prendi in giro perché sono azzurro? E lei è verde. E lei è verde, poi. Vabbè, devo nascondermi. Vieni, stiamocene qui sotto, immobili e in silenzio. Così immobili da non poter voltare la pagina. Ma si vede. Dove ti è nascosto? Infatti lo sta guardando. Oh, cavolo. Girando la pagina, hai mandato all'area la mia copertura. Con il vento. Scusa un istante. Ah, giusto. Con il vento l'abbiamo. Per la pagina. Ciao, Witz. Ciao, Nessi. Si chiama Witz. Ah, si chiama Witz. Adesso lo stiamo scoprendo. Nessi, che ne dici di diventare amici? Oddio, non voglio sapere qual è la risposta. Per favore, non girare la pagina sul serio. Quindi Nessi gli ha chiesto se volesse diventare suo amico. Però ha paura della risposta. Ah, no, aspetta. Lui ha chiesto. Witz l'ha chiesto a Nessi. Ah, ha paura di sapere la sua risposta. Eh, però ha avuto coraggio a chiederglielo dai. Non me l'aspettavo da Witz. Accidenti a te. L'hai fatto di nuovo. Ti avevo detto di non un momento. Mi sta sorridendo. Mi piacerebbe che fossimo amici. Perbacco, le piaccio, le piaccio, se è serio. Ok, manteniamo la calma. Potresti lasciarci da soli un momento? Guarda questo. Sì, insomma, non voltare la pagina. Vuole stare da solo? Ma noi vogliamo guardare. Dai. Oh, ah, gli ha dato un bacione. È svenuto. Con gli occhi a cuoricini. Vabbè. Molto divertente. Troppo bello pure questo. Bellissimo. Questa è più una storia d'amore, vero? Sì. E gli ultimi due sono questi. Qui non c'è niente da vedere. Già abbiamo visto. Abbiamo visto. E come? Ora questo è questo. Quindi questo è stato il terzo. Molto bello. Sono uno più bello di un altro. Noi non saprei scegliere. Che dite? Vabbè ragazzi, noi vi consigliamo questa collezione. E per non perdervi altri video in cui leggiamo gli ultimi due, di non aprire questo libro, questi, basta attivare la campanellina e iscrivervi al canale, per non perdervi nessun altro video. Noi vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! 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 Ciao!